Ciao, sono l'autoressa Maura. Oggi ti parlo del ferro. Il ferro è un minerale importantissimo per gli studenti. Quindi se ti senti spossato, ti senti irritabile, poco concentrato, è bene che tu assuma dei prodotti, degli alimenti ricchi di ferro. Il ferro è contenuto nelle verdure a foglia verde, è contenuto nei legumi, è contenuto nella frutta secca tipo le nocciole, i pistacchi e le noci, oltre a essere contenuto anche nella carne rossa e nella carne bianca. Spero di esserti stata utile e buona giornata.